La povertà educativa della popolazione italiana sia tra giovani sia fra adulti è una carenza accertata, l'avete sentito anche dagli ultimi dati che ha letto la dottoressa Venturi. Credo che sia la palissiano che per combattere bisogna attivare un sistema di apprendimento permanente, un sistema organico e integrato. C'è pure una legge, ci sono gli articoli di una legge, la legge 92 del 2012 che contempla una costruzione di un sistema di apprendimento permanente riconoscendo ad ogni individuo il diritto all'apprendimento permanente. Ma diciamolo colpevolmente i governi centrali e territoriali in tutte le loro forme, in tutte le loro articolazioni hanno fatto ben poco in questi anni per costruire il sistema e quindi per combattere la povertà educativa. Tanto, e lo dico, da far venire il sospetto che stiano loro in povertà educativa oppure che preferiscono l'ignoranza dei loro amministrati alla consapevolezza. Le eccezioni sono veramente poche e le conoscerete oggi. Credo quindi che occorra insistere attraverso una campagna diffusa di sensibilizzazione per far passare il messaggio fra coloro che almeno sono in buona fede che se non sai non capisci e se non capisci trovi difficoltà sia a vivere sia a lavorare, sia anche, per restare alla moda, a discendere tra il vero e il falso. Per questo il Gruppo Nazionale per l'Apprendimento Permanente, di cui faccio parte come da forum e che comprende le tre stigle sindacali confederate, CGL e CISLUIL, le sindacate di categoria, sempre della CISLUIL, la rete delle cattedre universitarie, la rete di CIPIA, il forum del terzo settore, il Gruppo Nazionale per l'Apprendimento Permanente ha scritto un appello per la costruzione di un sistema, di un piano di garanzia delle competenze. Un piano di garanzia delle competenze che spero che si riesca a presentare in un convegno prima della primavera. Nel frattempo abbiamo chiesto anche una serie di incontri con i ministri competenti, è difficile riuscire a stare dietro a tutte le varie azioni che intervengono, ma ci proviamo. Una serie di incontri con i ministri competenti, le commissioni deputate della Camera e del Senato e la conferenza delle regioni. Poi, se magari ci sarà il tempo, vi leggerò l'appello. Intanto, per stare in tema, mi preme sottolineare che il sistema di apprendimento permanente poggia sulle reti territoriali. Le reti territoriali sono il fondamento, lo dice anche la legge che citavo prima, la legge 92 del 2012, e quindi è da qui che si deve partire per iniziare a costruire il sistema. Richiamo gli elementi fondamentali su cui si deve articolare un sistema organico e integrato, deneato appunto dalla legge, e poi ribadito anche nell'intesa in conferenza unificata, sempre del 2012, e dall'accordo sempre in conferenza unificata del 2014. Voi probabilmente li conoscete, ma è opportuno ripetilo perché restino agli atti del seminario. Gli elementi essenziali del sistema sono le reti territoriali dei servizi come ossatura del sistema, l'orientamento permanente come parte del sistema, il procedimento di individuazione e validazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze, e quarto, l'impianto informativo nell'ambito di una rossale unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della conservazione degli attestati. Quindi gli elementi essenziali per costruire un sistema sono questi quattro. E su questi quattro, lo dice la legge, e lo ripetono delle intese firmate da tutti i soggetti a livello istituzionale che devono lavorare su questo tema. Quindi Stato e Regione. In merito alle reti territoriali, le citate normative precisano poi l'oggetto, cioè cosa sono le reti territoriali, l'insieme dei servizi relativi agli ambiti di apprendimento, formali, non formali, informali. Quindi ne fanno parte insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro, compresi i servizi relativi agli apprendimenti non formali. Quindi sappiamo che cosa è scritto, è normatizzato, cos'è l'oggetto delle reti territoriali. Sappiamo anche qual è l'obiettivo, la finalizzazione. I servizi devono essere collegati organicamente alle politiche di innalzamento dei livelli di istruzione, quindi collegate alle politiche di innalzamento dei livelli di istruzione, alle strategie per la crescita economica, all'accesso al lavoro, alle riforme del welfare, all'invecchiamento attivo, all'esercizio della cittadinanza. Ripeto, a costo di apparire noioso, è scritto qual è l'obiettivo delle reti territoriali. E le priorità, sono anche definite le priorità. l'ampliamento della platea dei beneficiari, il sostegno alla costruzione di percorsi personalizzati, soprattutto per i soggetti più deboli, la correlazione con le necessità dei territori e i fabbisogni di sistemi produttivi, l'attivazione dei servizi di orientamento, il riconoscimento dei crediti e della loro certificazione. Queste sono le priorità definite dalla legge e ribalite in quei due accordi che vi dicevo. Quindi è scritto tutto. Manca la volontà politica. Manca la volontà politica di fare in modo sistemico e organico su tutto il territorio nazionale quello che nei limiti del possibile è stato realizzato a oggi in qualche area territoriale dall'impegno sociale di pochi benemeriti penso a CIPIA, a qualche comune, a alcune associazioni del terzo settore, a qualche ente di ricerca e di studio. Quindi bisognerebbe dare vita e forza a un movimento di rivendicazione diffuso, costante, efficiente che combatta la povertà educativa dando e aggiornando permanentemente le conoscenze sui temi dell'istituzione, la cultura, dell'ambiente, della salute, del lavoro, della convivenza, della politica, direi, nell'interesse dei singoli cittadini. E vediamo se con questo seminario e col vostro aiuto, l'apporto di coloro che già ci lavorano, riusciamo a continuare in questo percorso che come gruppo nazionale di apprendimento permanente che nominavo prima, ci stiamo impegnando ormai da diverso tempo con sforzi non sempre primiati. A costo di apparire prolisso, tanto per inquadrare il problema, dico brevemente quali sono le problematiche da approfondire in merito all'organizzazione e al funzionamento delle reti. Le problematiche possono essere accorpate in cinque gruppi di tematiche da mettere a fuoco. Primo gruppo, individuazione fa bisogni formativi in relazione alle esigenze sia personali sia alle necessità di sistemi produttivi e dei territori di riferimento. Individuazione fa bisogni con l'obiettivo di ampliare la patria dei verificiari. realizzazione e sostegno alla costruzione di percorsi personali di apprendimento formale, non formale, informale. Identificazione dei luoghi e delle modalità per veicolare a livello regionale trasparenza e informazione sia per i soggetti della rete sia per gli utenti dei servizi. Provvedimenti per garantire l'accesso ai soggetti più deboli. è su queste e questo è il primo gruppo è su questo gruppo che poi si deve iniziare a lavorare sulle rite di rile. Probabilmente lo sapete ma è bene che rimanga evidente per riuscire poi su questo a lavorare insieme e congiuntamente. Bisogna quindi prevedere azioni di costruzione di un protocollo condiviso di analisi dei bisogni attraverso analisi socio-economiche del territorio la valorizzazione sistematica dell'apporto di diversi stakeholder del territorio l'armonizzazione delle banche dati esistenti anche lo scopo di fare dialogare fra di loro in vista della costruzione di una dorsale informativa unica almeno a livello regionale la mappatura delle attività di apprendimento permanente che abbiano carattere non occasionale alta trasferibilità obiettivi di apprendimento dichiarati e delle iniziative di sollecitazione alla domanda attraverso la progettazione di percorsi personalizzati raccordo tra attività di educazione permanente del territorio non formale sistema di istruzione degli adulti quindi non formale istruzione degli adulti formale poi sistema della formazione professionale sistema dell'orientamento del lavoro cioè tutti questi subsistemi che esistono in genere su tutti i territori devono parlarsi fra di loro devono stabilire e condividere gli standard minima di educazione dei percorsi e quindi lavorare in relazione a un sistema di certificazione e poi delle competenze su cui sta lavorando sul piano nazionale l'AMPAL il secondo gruppo di tematiche da mettere a fuoco è l'adeguamento della competenza degli operatori sia dell'attività di educazione sia quelle di istruzione sia quelle di formazione ma anche con i servizi di orientamento e di certificazione e poi la valutazione quindi l'adeguamento delle competenze e bisogna formare i formatori per usare le solite banali parole che manca la formazione degli operatori e valutazione delle performance dei servizi e della soddisfazione degli utenti perché se non si testano gli interventi è difficile che si possa costruire qualcosa di positivo e quindi bisogna prevedere azioni di formazione degli operatori in tutti i campi dall'orientamento all'apprendimento alla certificazione elaborazione di standard territoriali di servizi a garanzia della qualità individuazione delle modalità e successiva modalizzazione per la partecipazione dei soggetti che realizzano le attività formative non formali e informali attraverso l'istituzione doni e registi terzo gruppo l'attivazione dei processi di governance democratica e partecipativa che permettano alle comunità locali di essere protagoniste della propria crescita oggi svolgono le funzioni di apprendimento organismi pubblici e privati connotati rispetto a specifici campi nel campo dell'istituzione dell'educazione del lavoro della transizione tra formazione del lavoro intervengono strutture che svolgono compiti di orientamento e di certificazione bisogna mettere insieme e organizzare una armonia fra tutti questi soggetti e quindi prefigurare forme di raccordo fra le diverse reti esistenti in modo da assicurare la capacità di incidenza sul territorio terzo gruppo quarto gruppo scusatemi modalità di realizzazione di una dorsale informativa unica è importante avere un punto di riferimento in cui ci sono tutti i dati ricerca e censimento quindi dei database esistenti a livello locale omogenizzazione dei sistemi di rilevazione anche questo cosa molto importante omogenizzare i sistemi di rilevazione e estensione del campo delle attività al non formale se è limitato al formale creazione di un database unico creazione di un'interfaccia tra il database e il repertorio delle figure professionali e la creazione di un'interfaccia tra il database e le competenze in uscita sia dai cicli scolastici ma anche dalle esperienze fatte nell'educazione non formale ultimo gruppo di problematiche da mettere in evidenza per costruire le reti territoriali sono le fonti di finanziamento in realtà le fonti di finanziamento ci sono guardate quello che fa più rabbia poi per chi lavora da tempo su queste cose è vedere che poi i fondi non è che mancano non saranno eccessivi perché poi in realtà ovviamente tenendo conto della povertà educativa che c'è in questo paese bisognerebbero riplicarli se poi vedete i bilanci poi nei vari governi a questi interventi e il campo delle istruzioni della formazione i finanziamenti sono molto più ridotti rispetto a altri tipi di iniziative però in realtà i finanziamenti ci sono e che il problema è che vengono sprecati perché sono parcializzati cioè ogni pezzo di soggetto che dovrebbe entrare in un sistema ha una sua copertura finanziaria se si riuscisse a mettere insieme tutti questi finanziamenti e quindi lavorare in modo organico probabilmente si troverebbe anche la forza per poter costruire qualcosa di positivo è un altro dei problemi è difficilissimo riuscire a far capire ai vari organismi che devono mettere insieme anche al loro vantaggio al loro interesse i finanziamenti perché ognuno ovviamente è abituato a curare i propri interessi e quindi manca questa visione che poi è quella che ci frena in Italia dal punto di vista organizzativo per la costruzione di un sistema organico questi sono rispunti per una riflessione voi ci racconterete spero le vostre esperienze vediamo se dalle vostre esperienze mettendoli insieme con quelle che sono le linee guida di un processo si riesce a fare un passo avanti grazie